Dopo la denuncia di Teleblu, la biblioteca del convento di San Matteo a San Marchilamis e i suoi quasi 100.000 libri riceverà i fondi previsti dall'avviso pubblico della Regione Puglia. Nei giorni scorsi, infatti, il direttore della biblioteca, padre Mario Villani, aveva denunciato il fatto che il provvedimento regionale che attribuiva fondi per i beni culturali della Puglia includeva anche le biblioteche pubbliche, escludendo però quelle ecclesiastiche. Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Culturale della Regione Puglia, ha annunciato oggi che il bando sarà modificato in modo che anche le biblioteche private potranno ricevere i fondi previsti dall'avviso regionale, purché mettono a disposizione del pubblico il loro patrimonio librario. Cosa che avviene già quotidianamente per la biblioteca del convento di San Matteo, frequentata periodicamente da studiosi, ricercatori e professori di università italiane e straniere. Tra i libri della biblioteca dei frati minori sono 7.000 quelli stampati tra il fine del 15esimo e il 1830, tra cui 10 incunaboli, 205 centine e 806 centine. La Regione ha spiegato che per la biblioteca di San Marco impiegherà risorse europee, anche se l'ente di Via Capruzzi ha già attivato un tavolo con la Conferenza Episcopale Pugliese per programmare interventi sul patrimonio ecclesiastico del territorio.